Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video dove vi presentiamo la nuova Renault Austral. La Renault Austral che oggi troviamo nell'allestimento Tecno Esprit Alpine è dotata di un design sportivo che ne esalta le linee e la dinamicità. Troviamo infatti Badge Alpine in diverse parti. La carrozzeria è disponibile in diversi colori. In questo esemplare troviamo un grigio satinato assieme ad una tinta Chuton. Come dimensioni parliamo di un SUV lungo 4,5 metri, largo 183 cm e alto 162 cm. La parte frontale della Renault Austral è caratterizzata da questa griglia incornicata da due fari a LED Adaptive Vision con funzione antinebbia integrata che riprendono la costruzione della sorella Megane Tecno Esprit. Offrono un'illuminazione eccellente e allo stesso tempo esaltano il design dell'auto. Sotto la griglia è presente un paraurti in tinta unita con la carrozzeria che dà un ulteriore tocco di eleganza alla parte frontale. La parte posteriore è altrettanto curata. I fari LED con effetto 3D conferiscono un'illuminazione intensa e allo stesso tempo contribuiscono ad esaltare il design sportivo dell'auto percorrendo tutto il portellone che è elettrico e lasciando al centro il posto per il logo Renault e la retrocamera. La parte inferiore del paraurti infine presenta una finitura nera lucida. Lateralmente troviamo questi bellissimi cerchi da 20 pollici, i finestrini posteriori oscurati, le barre longitudinali e questo profilo nero lucido che percorre tutta la carrozzeria. C'è da dire che questa verniciatura grigio opaca dona proprio un bel risalto alle curve di Renault-Austral. Gli interni sono stati progettati per offrire comfort, tecnologia e stile. La plancia è caratterizzata da una combinazione di materiali di alta qualità che conferiscono un'atmosfera elegante e accogliente. Troviamo l'Alcantara in diverse parti, cruscotto, volante, portiere e sedili. Questi, oltre che essere molto comodi, sono regolabili elettronicamente e riscaldati per garantire il massimo comfort durante i viaggi. Inoltre, sono realizzati con materiali traspiranti che mantengono freschi i sedili anche durante le giornate più calde. Da notare anche tutti i piccoli dettagli sulle cuciture presenti nell'abitacolo, richiamando i colori francesi in pieno stile alpine. Spostandoci quel posteriore c'è tanto spazio a disposizione, soprattutto per le gambe. Per quanto riguarda il bagagliaio, su questa versione che è dotata di sedili posteriori scorrevoli, abbiamo una capacità di 575 litri che diventano più di 1500 abbassando i sedili. La Renault Australia è dotata di un sistema di infotainment di ultima generazione, che include lo schermo touch Open Air Link da 12,3 pollici con connettività e servizi Google, intuitiva e ad alta risoluzione. Non manca la connettività Bluetooth per ascoltare musica o effettuare chiamate in viva voce durante la guida. Il sistema di infotainment include anche un sistema di navigazione GPS integrato che vi aiuterà a trovare la destinazione desiderata e a ottenere informazioni sul traffico in tempo reale. Il sistema è dotato di mappe dettagliate e una funzione di ricerca vocale che vi permetterà di inserire la destinazione desiderata in modo semplice e veloce. È dotata di un sistema audio premium con 8 altoparlanti che vi permetterà di godere della vostra musica preferita con un suono cristallino. Il sistema di infotainment, inoltre, offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione tra cui la possibilità di personalizzare la schermata principale e l'ambient lighting che permette di cambiare le luci e quindi l'atmosfera dell'abitacolo. Il punto forte della recente gamma Renault è senz'altro rappresentato dai sistemi di assistenza alla guida che ammontano ben 32. Vi lasciamo un link in descrizione per approfondire. La nostra Austral è equipaggiata con un Mide Hybrid da 160 CV. Ha un motore termico da 1,3 litri turbo combinato ad una batteria da 12V ed un cambio automatico X-Tronic. Ma sono disponibili anche le motorizzazioni full hybrid fino a 200 CV. In conclusione, il design della Renault Austral in questo allestimento Esprit Alpine è un esempio di eleganza e sportività che conferisce all'auto un'immagine distintiva. Grazie per averci seguito in questo video. Per ulteriori informazioni non esitate a visitare il nostro sito web www.gruppocarmel.com Alla prossima!